favoreggiamento dell'immigrazione clandestina arresti anche a fano sicurezza attorno alla stazione di pesaro il comune potenze le telecamere a pesaro un nuovo asilo nido da 90 posti sarà pronto nelle 2026 dopo l'alluvione parte la ricostruzione delle campo sportivo di gismara san bartolo sempre più collegato grazie alla realizzazione di nuovi percorsi una buona serata telespettatori di rossini tv e benvenuti a questa nuova edizione di rossini news telegiornale di oggi mercoledì 10 luglio che apriamo con la cronaca e lo facciamo partire da un'indagine nazionale della guardia di finanza riguardanti il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina che ha portato a 47 arresti in tutta italia compresa la provincia di pesaro urbino da questa mattina la guardia di finanza di salerno assieme ai reparti dei carabinieri tutela del lavoro stanno eseguendo in sei regioni italiane ordinanze d'arresto e di vieti di esercizio di attività professionale nei confronti di 47 indagati per associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina al riciclaggio e all'emissione di fatture per operazioni inesistenti arresti anche nella provincia di pesaro urbino dove a finire i domiciliari è stato un quarantenne tunisino domiciliato a fano le indagini sono partite dall'illecito utilizzo del cosiddetto click day legato al decreto flussi del 2020 finalizzata all'ottenimento da parte di cittadini extracomunitari del nulla osta per l'ingresso in italia per motivi di lavoro le indagini hanno consentito di ricostruire un sistema illecito che partiva dalla costruzione di società ad hoc o dalla fraudolenta utilizzazione di identità digitale di imprenditori ignari il cui unico scopo era quello di consentire l'inserimento di stanze per l'ottenimento del nulla osta all'ingresso sul territorio nazionale nonché individuare una rete di persone composta da imprenditori addetti ai patronati e liberi professionisti che previa corrisponsione di denaro da parte di extracomunitari interessati predisponeva e effettuava l'inserimento allo stato delle indagini ancora nella fase iniziale è stato riscontrato l'inoltro verso diverse prefetture italiane di 2500 istanze strumentali all'ingresso fraudolento di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale basate su dati inesistenti o falsificati ogni extracomunitari avrebbe corrisposto per ogni istanza inoltrata durante i click day 1000 euro per ogni nulla osta è visto 2000 euro e per ogni fittizio contratto di lavoro firmato altri 2000 euro e si potenzia la video sorveglianza in un'area delicata della città di pesaro come quella limitrofa alla stazione ferroviaria e al parco miralfiore il comune annuncia che da venerdì verranno installate 5 nuove telecamere elettroniche nel riqualificato sottopasso dei cappuccini che si andranno ad aggiungere alle 9 già esistenti della zona 4 di queste controllano via le 24 maggio 2 la chiesa dei cappuccini e 3 l'edificio della stazione e dall'inizio delle 2024 sono state già 18 le truffe ad anziani denunciate a pesaro per quel che riguarda raggiri di finti carabinieri che si presentano alla porta o ingannano persone alle telefono un fenomeno in aumento ed un numero ben più ampio se si considerano i tanti episodi che non vengono poi denunciati ora parte a pesaro così come in tutta italia una campagna di prevenzione a questo tipo di truffe con un testimonial molto speciale questo è vincenzo mio cugino ha chiamato l'avvocato ha detto io sono l'avvocato di suo figlio deve pagare la cauzione se no domani va in galera e lui ha pagato maledetti ecco vedi queste invece annunze abita vicino a me non le hanno consegnato un pacco dicendo che era della figlia doveva anticipare subito i soldi ovviamente quello che c'è cascata e nel pacco non c'era nulla queste sono le cose che a me mi fanno capito e questo sono io sai che hanno telefonato pure a me hanno detto c'è una fuga di gas io dico lasciatelo fuggire tanto poi i carabinieri lo arrestano lì non ne sentiamo tante di storie così per fortuna alcune hanno lieto fine è quello che dico io l'importante è che uno pensi questa è una truffa e chiama i carabinieri se qualcuno di persona al telefono chiede informazioni personali chiede soldi vuole entrare in casa non abbiate dubbi chiamate l'112 noi possiamo aiutarvi o aprite bene gli occhi cambiamo argomento e torniamo a parlare di asili ma soprattutto parliamo della carenza dei posti nei nidi per quanto riguarda le famiglie pesaresi il comune ha provato ad andare incontro a questa esigenza annunciando la costruzione di una nuova struttura vediamo il servizio il comune di pesero si aggiudica un bando ministeriale per realizzare un nuovo asilo nido vedrà la luce nel 2026 e rappresenterà una boccata d'ossigeno per i genitori pesaresi di domani che beneficeranno di altri 90 posti nei nidi di infanzia volti a snellire le future liste d'attesa di questo servizio per famiglie una novità che è stata annunciata in consiglio comunale a pochi giorni da un quadro per il 2024 2025 delineato dall'assessore alle politiche educative camilla murgia che attualmente si trova a gestire una lista da 120 famiglie escluse dall'attuale disponibilità nei nidi comunali il nuovo asilo sarà realizzato grazie all'aggiudicazione di un bando del ministero dell'istruzione con oltre 2 milioni di euro di fondi pnrr come annunciato dall'assessore alle nuove opere riccardo pozzi che ha informato il consiglio comunale dell'annessa variazione di bilancio aggiornata d'urgenza in giunta è stato quindi necessario intraprendere il percorso di riportare questa questo contributo di 2 milioni 160 mila euro nel bilancio del comune di pesaro per poter avviare da subito il percorso di realizzazione di un nuovo nido un impegno ulteriore del comune che dallo scorso anno ha aumentato la capienza di 30 posti nei nidi e che vede procedere a buon ritmo anche la costruzione del polo d'infanzia 0 6 anni di soria i tempi sono strettissimi nonostante come servizi di opere pubbliche abbiamo dimostrato di essere in grado di rispettare tutte le scadenze le tempistiche pnrr il 31 ottobre si è prevista il tempo la scadenza per l'aggiudicazione dei lavori e quindi l'avvio dei lavori entro l'anno per concludere il cantiere entro il 30 giugno 2026 e restiamo in tema di lavori pubblici perché dopo l'alluvione che 14 mesi fa devastato il campo sportivo pesarese di vismara è pronta a partire la fase di ricostruzione dopo la devastazione dell'alluvione di maggio 2023 la ricostruzione del campo sportivo di vismara può finalmente partire oggi i sopralluoghi degli assessori pozze della dora nell'impianto di via liri assieme alla ditta aggiudicatrice dell'appalto ha dato il via libera al cantiere partenza dei lavori fissata per lunedì 22 luglio con l'intento di provare a completare il rifacimento del campo da calcio a 11 calcio 5 entro la prima metà di ottobre in modo da renderlo fruibile per buona parte della stagione sportiva 2024 2025 per quel che riguarda i 200 ragazzi tesserati al club giallorosso tre mesi di lavoro per un intervento di riqualificazione straordinaria da 700 mila euro di cui 440 mila proveniente dal bando sport e periferie e restanti 260 mila di cofinanziamento del comune il nuovo campo da gioco potrà ospitare campionati figici fino alla categoria eccellenza contestualmente ci sarà l'installazione di pannelli fotovoltaci sulla copertura e altri interventi di efficientamento energetico come la creazione di un nuovo impianto di scarico per il recupero delle acque meteoriche dell'edificio e la realizzazione di un impianto di domotica di irrigazione e illuminazione per migliorare la gestione del campo intervento che si aggiunge 50 mila già stanziati lo scorso marzo dalla regione tramite il consigliere baiocchi e destinati alle spese straordinarie di gestione dell'attività sportiva ci occupiamo ora di inquinamento perché purtroppo peggiore il quadro delle polveri sottili nelle marche dove si sono registrati quasi 160 sforamenti nelle 17 centraline dell'ARPAM nelle periodo compreso dalle 1 gennaio alle 30 giugno 2024 dalle report della rete regionale della qualità dell'area relativi alle pm 10 emerge che il maggior numero di sforamenti nelle semestre appena trascorso è stato registrato a fano dove si sono avute 19 giornate con valori oltre le limite di legge seguono pesaro e ancona stazione a 18 sforamenti un è dato in peggioramento con sette sforamenti in più sia per pesaro che per efano rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e un gioiello come quello delle parco san bartolo diventerà sempre più fruibile collegato grazie ad un finanziamento regionale per quattro percorsi destinati alla mobilità sostenibile ai collegamenti con la ciclovia adriatica scopriamo di più in questo servizio. L'assessorato alle infrastrutture della regione Marche ha stanziato un milione di euro per la mobilità sostenibile e i percorsi ciclabili del san bartolo nel bilancio regionale 2023-2025 a ciò si aggiunge il documento preliminare già redatto inerente la progettazione per l'individuazione dei percorsi di collegamento tra la ciclovia adriatica prevista lungo la strada statale 16 e i borghi storici del san bartolo un progetto che mira a rendere il parco sempre più accessibile e centrale nella visione di turismo regionale. Non potevamo far sì che la ciclovia adriatica che andiamo a completare con 27 milioni e mezzo di stanziamenti passasse al di fuori del parco e allora abbiamo deciso di destinare un milione di euro per la realizzazione di quattro percorsi che dalla ciclovia adriatica portano verso le emergenze storiche culturali ambientali naturalistiche del parco sto pensando da soria sino a santa marina da santa marina fino a fiorenzuola non dimenticando il castellaro da fiorenzuola fino a castel di mezzo vallugola e arrivare a colombarone e questa la valorizzazione che vogliamo fare del parco troppo per troppo tempo dimenticata negli anni passati anche nelle semplici manutenzioni dei percorsi allora vogliamo far vivere tanti turisti che arrivano nelle marche in questo promontorio che ricordiamolo è il primo che da trieste fino al gargano si getta nel mare l'esperienza di poter vivere paesaggi rurali ma anche i paesaggi marini dalla falesia alta fino a 230 metri che si affaccia sul mare adriatico e allora abbiamo messo a disposizione del san bartolo risorse straordinarie per migliorare i percorsi i passaggi storici che ci sono all'interno dei suoi boschi ma abbiamo voluto fare di più mettere a disposizione le risorse ordinarie per la gestione del parco sin da inizio anno perché il parco possa progettare programmare il proprio futuro organizzare iniziative per la valorizzazione di quello che è uno straordinario moltiplicatore turistico per la nostra regione ma anche moltiplicatore del pil turistico della nostra regione io l'ultima volta che ho scritto al governatore che il parco è una ferrari che il consiglio direttivo il presidente sono i piloti ma se non arriva la copertura finanziaria anticipata e su dei progetti non possiamo fare niente credo che oggi abbiamo buttato le basi per poter iniziare un percorso dove facendo squadre con i residenti gli abitanti le attività produttive gli agricoltori possiamo condividere un progetto per una bella strategia e a pochi giorni dall'annuncio di lavori in corso per riaprire il cortile di rocca costanza il quattrocentesco monumento pesarese riapre il suo fossato con il lepaglio dei braceri che scalda già i motori per l'evento collocato nell'ultimo weekend del mese di luglio quattro giorni di palio per 15 contrade pronte a colorare prima i loro quartieri e poi rocca costanza e piazzale matteotti in occasione della dodicesima edizione del palio dei braceri a pochi giorni dall'annuncio di una possibile riapertura degli eventi nella corte e il fossato di rocca costanza tornare ad animarsi con un palio dei braceri che innesca la festa dal 25 luglio e che avrà il suo clou nella competizione del 28 luglio una quattro giorni palio che dal 25 luglio al 28 si inizia appunto il 25 con l'allestimento del del villaggio gastronomico qui sopra i giardini di rocca costanza ci saranno dieci stand presenti legati alle contrade che offriranno un menù comunque un'offerta culinaria molto variegata ci sarà il torneo di biliardino con il buon willy e ci saranno le esibizioni degli artisti di contrada qui sulla sulla strada davanti rocca costanza tutte le band degli artisti delle contrade si esibiranno nella nelle prime tre serate del palio quindi dalle 20 alle 24 e ci sarà inoltre l'esibizione o comunque la mostra dell'icona che è del palio dei braceri che è il bracere appunto e per arrivare al 28 dove ci sarà il corteo per rocca costanza da parte di tutte le contrade che una volta posizionate poi all'interno del fossato partirà il tutto con la passerella l'esibizione delle miss per miss palio guidata da lorenzo bernardini lucia giada e poi con l'estrazione delle batterie solite per le contrade quest'anno le contrade coinvolte saranno 15 una in meno di un anno fa con case bruciate che manca l'appello novità assoluta a livello organizzativo sarà quella di un biglietto di ingresso al costo di 5 euro per chi intende scendere nel fossato della rocca la domenica della gara biglietti che saranno reperibili presso ogni contrada anche quest'anno siamo siamo ritornati forse a una versione più simile a quelle anti covite quindi abbastanza completa però quello che ci aspettiamo è che tutti i giovani partecipanti giovanissimi che parteciperanno prendano le nostre redini al momento sono più tifosi che organizzatori però devono capire che questa è una eredità che noi vogliamo lasciare loro che loro lo dovranno portare avanti per tanti anni e quindi devono prima o poi farsi carico io voglio essere uno spettatore i prossimi anni e vedere qualcuno al posto mio di giovane che che faccia le interviste un paio dei braceri che mantiene il sostegno del comune anche dopo il cambio d'amministrazione penso che sia giusto che come amministrazione comunale continuare a sostenere questa iniziativa abbiamo approvato proprio ieri in giunta le risorse necessarie per poter sostenere un evento come questo che comunque ricordo non è un evento che non costa nulla è un evento che chiede comunque l'impegno da parte del comune di peggioro lo abbiamo fatto volentieri perché appunto riteniamo che il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani soprattutto in un momento storico come questo sia molto importante e si è svolta ieri sera nell'arena del parco miralfiore la cerimonia di premiazione delle eccellenze della scuola secondaria di primo grado della città 129 in totale a cui le comune ha consegnato un testato di riconoscimento 129 ragazzi delle medie promossi con 10 e 10 lode in una iniziativa che ha visto presenti un migliaio di tutte le classi terze di pesaro e dalle dossiere di pesaro 2024 nascono anche nuovi oggetti una di queste è stata presentata oggi in comune si chiama bartolo sedie in cammino un nome che si ispira all'elemento naturale delle parco san bartolo e rappresenta un processo virtuoso e partecipato tra università scuola cittadini aziende del territorio durato quattro anni il percorso di progettazione è stato condotto dall'università degli studi di san marino e ha prodotto un sistema costituito da articoli a re di gioco per bambini e sedute pieghevoli per esterni in legno di faggio e di ciliegio personalizzabili e adattabili a vari terreni contesti si tratta di sistemi creati in collaborazione con l'istituto bramante genga e l'azienda adrenalina di pesaro bartolo sarà prodotto in serie limitata per alcuni eventi di pesaro 2024 e sabato 13 luglio un nuovo appuntamento con il symphony pop festival dell'orchestra sinfonica rossini che alle 21 e 15 nelle cortile della rocca malatestina di fan ospita un concerto dedicato alla grande musica leggera l'ospite d'onore sarà infatti chiara galeazzo una delle voci pop più amate in italia già vincitrice di x factor la galeazzo si esibisce la galeazzo si esibirà con i suoi pezzi più celebri e con i classici della musica italiana da mina a nada e restiamo sempre in tema di ambito musicale andando a scoprire un concerto che si terrà venerdì a pesaro in un luogo molto particolare come il cortile dell'arcidiocesi venerdì 12 luglio a partire dalle ore 21 e 15 nel cortile san terenzo il cortile dell'arcidiocesi di pesaro in via rossini si terrà il concerto dentro ogni cosa un concerto del cantautore peserese riccardo selci e la full band in dialogo con riro maniscalco ne parliamo proprio con il cantautore riccardo selci che tipo di performance sarà sarà una un'esibizione che ha il concetto del dialogo dentro di sé nel senso che le canzoni saranno chiaramente protagoniste ma nel dialogo con riro maniscalco che è una persona che ha una storia simile alla mia ecco perché questo invito questa scelta cioè di fare un mestiere diverso da quello che il cantante il cantautore ma di portare questa passione dentro la vita lo stesso e quindi in questo dialogo andremo a parlare di cos'è che c'è all'origine della scrittura di un brano quale bisogno è quello che anima la scrittura e quello poi che ne consegue cercando di coinvolgere il pubblico perché la nostra idea è che l'esigenza che ha uno scrittore è la stessa che è una persona di qualunque tipo che magari non ha quello strumento quindi la partecipazione sta nel succo del perché si scriva ricordiamo qual è il percorso musicale di riccardo selci dunque riccardo che sarebbe io in realtà suona quando era ragazzo poi questa passione è rimasta un po sotto la cenere perché insomma poi faccio un altro mestiere come dicevo un'impresa metalmeccanica ho una famiglia con cinque figli quindi ho delle cose per la testa è rimasta un po sotto la cenere qualche anno fa questa necessità di scrivere si è ravvivata gli ho dato un po di cordo un po di ossigeno e ho fatto delle scoperte e quindi ho il desiderio di portarla diciamo a una visibilità a una una cosa ben fatta in modo che possa camminare con le sue gambe dentro ogni cosa il titolo di questo concerto che va un po sintetizzare anche quello che è il tuo stile esattamente sì il titolo è stato è stato posto proprio con la pretesa di andare a sondare perché le canzoni nascono da dell'esperienza dei sentimenti da delle amicizie degli affetti quindi alla radice della scrittura c'è qualcosa che è un'esperienza che tutti facciamo ecco perché dentro ogni cosa c'è questo punto comune nel concerto verrò accompagnato dalla full band che sono un gruppo di quattro musicisti professionisti che hanno deciso di seguirmi in questo progetto che dire musicalmente si può dire fuori moda non perché i trend musicali sono un po differenti e in qualche modo cercheremo di comunicare quello che è quello che fa vibrare dentro una canzone no speriamo che le persone sono abbiano piacere di di farsi trasportare in questo piccolo viaggio che gli proponiamo ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale prima però di lasciarvi le previsioni delle meteo vi ricordo la programmazione in onda su Rossini tv a cominciare subito dopo questa prima edizione del nostro telegiornale alle ore 20 con il magazine la natura della cultura dedicato appunto a pesaro 2024 capitale italiana della cultura nella puntata di questa sera approfondiremo la seconda stella michelin che hanno ricevuto i musei civici di pesaro e vi ricordo l'appuntamento con amministrando andremo a conoscere piano piano i nuovi sindaci della nostra provincia questa sera mercoledì 10 luglio alle ore 21 e 20 sarà il nuovo sindaco di pesaro andrea biancani ad essere intervistato dal nostro antonio astuti e vi ricordo anche l'appuntamento come di consueto con la nostra rassegna stampa buongiorno Rossini la rassegna dei quotidiani locali domani mattina in diretta alle ore 7 20 saremo in diretta anche sulla nostra app sul nostro sito e sulla nostra pagina facebook a condurre la rassegna la nostra direttrice Emanuela Rossi ed è davvero tutto io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia vi auguro un buon proseguimento di serata